Con il faccia a faccia a cura della redazione di Sala Stampa, con noi in studio Rossella Zappalà che salutiamo, maestra di sci, allenatore federale di sci alpino, direttrice della scuola italiana di sci Nicolosi Etna e ancora commissario di sci alpino del comitato Siculo, consigliere del collegio maestri di sci della Sicilia e anche responsabile del Magma Ski Team. Ben trovata, 15 minuti per saperne di più su Rossella Zappalà, ma anche sull'attività dello sci in Sicilia che per molti è un'attività sconosciuta. Chiedo alla nostra regia di inquadrare il timer per i 15 minuti a nostra disposizione. Il mito sportivo di Rossella Zappalà. Il mito sportivo è Alberto Tomba, Gustavo Teni, ce ne sono tanti nel nostro palmarès della storia dello sci. Diciamo che il mito più grande è il mio papà, il quale mi ha consentito questo, mi ha portato in montagna solo i tre anni, perché l'unosciatore è incallito proprio da tanti anni e diciamo che lui è il mio mito più grande. In assoluto. In assoluto. E qual è stato il tuo sogno sin da ragazzina? Fare quello che stai facendo adesso? I miei sogni, però questo era quello che mi piaceva realizzare. Abbiamo fatto tanti sacrifici insieme alla mia famiglia, insieme a studiare e tutto quanto e finalmente dopo tanti anni ci sono riuscita e ora sono veramente felice di questo. Cosa ti ha fatto innamorare dello sci? Il mio sport. La neve, la montagna, le gare. È stato tutto un iter passato nel tempo, dai tre anni fino ai venti, quando poi ho fatto la selezione per maestri sci. Un po' tutto l'ambiente, tutto. Non hai mai praticato altri sport? Ho praticato tanti altri sport. Quali per esempio? Ma faccio, io sono anche istruttore di fitness per l'ex-sign, ho fatto dei corsi di formazione. Poi ho fatto baseball, ho fatto nuoto, ho fatto pattinaggio, un po' tutti. Però poi quando si fa qualcosa a livello agonistico è chiaro che bisogna fare anche delle scelte. E la mia scelta era sempre solo lo sci. In assoluto. In assoluto. Ecco, perché a parte lo sci è così difficile fare sport in Sicilia? Che idea ti sei fatta? Ma sai cosa? Purtroppo sono le strutture mancanti, soprattutto per lo sci. Abbiamo un'Etna che ci potrebbe consentire tantissimo proprio a livello turistico, però credo che ancora non sia sviluppata e gestita nella maniera più corretta. Ci stiamo provando, stiamo facendo tanti passetti avanti, però veramente ancora manca tanto. Diciamo che rispetto a quando ero piccola e si facevano 40 gare all'anno, 40 gare a stagione, siamo andati un po' indietro. Vuoi per le eruzioni, vuoi perché è cambiato qualcosa nelle gestioni, nel crederci delle altre persone. E un po' siamo andati indietro. Spero che nel futuro, per tutti quelli che sono i nuovi maestri, i nuovi ragazzi dei nostri sci club, per tutti quelli che si affacciano a questo sport, riusciamo di nuovo a ritornare in auge come eravamo quando si organizzava la Tre Giorni dell'Etna, tanti anni fa, quando avevamo tanti campioni che venivano a fare le gare, quando lo sviluppo turistico invernale era tantissimo. Io mi ricordo da bambina, facevamo le gare ed eravamo 100 iscritti, 120 iscritti per ogni gara. Oggi facciamo fatica proprio a portare le persone sull'Etna. Il problema è che un po' manca la neve, un po' c'è l'eruzione, un po' c'è il vento e tante altre cose. Ma c'è anche una certa incapacità imprenditoriale e di gestione? Allora io credo che ci sia, non proprio un'incapacità, perché se poi fai conto che è sempre stata la stessa gestione, non parlerei di incapacità, parlerei di volontà di portare avanti quello che è l'inverno, anziché pensare che sia inutile o che ci sia poca gente, cominciare a capire per quale motivo è diminuita l'affluenza sull'Etna, per quale motivo gli sciatori che prima erano presenti, gli sci club numerosissimi che c'erano prima, oggi hanno retrocesso, hanno fatto un passo indietro, abbiamo molta meno... Chiaramente anche il problema economico non è indifferente, soprattutto in questo contesto storico, sai benissimo che ci sono delle carenze economiche un po' dappertutto. Quindi bisognerebbe proprio incentivare questo, con delle forme pubblicitarie, promozionali, soprattutto riferite ai ragazzini, alle scuole, io organizzo come scuola scita antiprogetti neve, organizzati per le scuole e lì cerchiamo proprio di portare i ragazzi a un prezzo bassissimo, collaboriamo con la Funivia, collaboriamo con i noleggi, proprio per avere un incentivo per portare avanti un pochino, per incrementare quello che è il nostro sport. Hai mai pensato di lasciare la Sicilia? Guarda l'ho già fatto, ti dico che l'ho già fatto, io ho iniziato la mia attività su una stazione scisti che si chiama Folgaida, poi sono andata per tanti anni a lavorare in Val Gardena, però mi fa veramente male sapere di avere un'Etna fantastica, sciare guardando il mare, avere un'isola dove ti consente tutto e dover lavorare fuori. Sono cresciuta tecnicamente, lavorativamente, moltissimo, lavorando con i miei colleghi del nord, soprattutto all'inizio è stato veramente di grande aiuto, però poi sono sempre tornata qui e infatti dopo tante vicissitudini, scuole sci e lavoro in scuole sci e tutto, ho deciso proprio di fondare anche uno sci club, di attivarmi per l'attività agonistica e portare avanti proprio questi ragazzini a fare le gare, proprio come è nato per me, no? Volevo sviluppare la stessa cosa, uguale. Tu sei una donna tenace. Molto. Molte volte mi arrampico sugli specchi, però ci credo. Ecco, con gli uomini nel settore dell'istruzione, anche a livello federale, hai avuto tanti scontri? Ma in questo settore ci sono, come in tutti i settori sportivi, quando fai qualcosa, sbagli, indovini, però fai tanto, hai degli scontri con i colleghi, con le strutture, abbiamo avuto delle tribe abbastanza importanti, però voglio dire, tutto fa crescere, se è propositivo, se si litiga per arrivare a un obiettivo, io penso che sia giusto. Se si litiga e dopo non si ottiene nulla, allora lì diventa veramente, non ti dico mortificante, però dici, ma per quale motivo? Non è corretto, ecco. Torniamo al personale. Rossella Zappalà vorrebbe cambiare qualcosa del suo carattere? Ognuno ha il proprio carattere. C'è qualcosa che non sopporti di te, oppure va bene così? Impulsiva, però credo tanto, riferendomi a questo settore, in questo sport e in questa attività. Quindi per quel che si possa dire, per quel che si possa fare, lo faccio come attività mia lavorativa e lo faccio con tanta passione. Quindi io ci credo, ci continuo a credere e mi batterò per andare avanti. Rossella Zappalà nel suo tempo libero cosa fa? Va in palestra, si allena. Sempre in movimento comunque. In palestra si allena, ma di tempo libero ne ho veramente poco, perché appunto seguo questi ragazzi che fanno le gare, quindi una squadra agonistica che alleno tutto l'anno. Seguo in questo momento anche i corsi di formazione maessi sci, e quindi sono sempre in giro con i corsi di formazione. Organizziamo gare, in questo momento, ieri abbiamo avuto proprio una riunione, per poter portare il nostro calendario gare a compimento in un'altra stazione scistica, perché a causa della mancanza di neve, purtroppo quest'anno, non abbiamo potuto fare neanche una gara. I ragazzini hanno speso tanto, hanno investito tanto, e vogliamo fargli fare le gare. Ecco, tornando sempre al privato, come te la cavi tra i fornelli? Malissimo, perché sono sempre assente. Quindi cucina tuo marito? No, cucino, cucino. Quando sono a casa cucino, però diciamo che... Veloce. Velocemente, è solamente la sera, perché a pranzo sono quasi sempre fuori. Sposata, mamma? Mamma di una bella bimba che si chiama Elena, che è qui presente, che mi sta ascoltando. Sì. Hai sacrificato del tempo alla famiglia per l'attività scistica. Diciamo che è un compromesso nel tempo. Per fortuna è Elena scia, e quindi quando posso la porto sempre con me, durante i fini di settimana, anche per qualche giornino di scuola e non fa niente. E quindi diciamo che è un compromesso corretto, non è un sacrificio. Ti piacerebbe fare politica domani? Per lo sport? Anche, in generale. Se porterebbe a un qualcosa di importante per lo sport, sì. Ma solo in questo settore qua, perché è il mio e ci muovo a mio agio e mi sento bene. Tuo marito è un amante della montagna? Sì, scia anche lui, fa sport. Siete conosciuti in montagna? No. Al mare? Tutto l'altro lavoro, no. Tutto l'altro lavoro, sì, sì, sì. Ho capito. La sera quando vai a letto, qual è il tuo sogno ricorrente? Sperare di avere qualcosa di migliore domani, veramente. Perché io ci credo in questo sport. Sarò logoroica, ti voglio dire. Però abbiamo grandi problemi con le scuole sci, abbiamo grandi problemi per gli allenamenti. E allora ogni sera, propositivamente, dico, vabbè, domani farò questo e vediamo a cosa ci porterà. Tornando all'attività a livello nazionale, quindi parliamo di attività federale. Sì. Perché l'Italia non riesce più a vincere la Coppa del Mondo? L'ultima volta accadde nel 94 con Alberto Tomba. Grande Alberto. Bisognerebbe ripartire da capo, bisognerebbe, insomma, in qualche modo investire di più sui giovani o cos'altro. Investire di più sui giovani sicuramente, perché i giovani sono il nostro futuro. Le categorie più giovani li costruisci, gli insegni, li porti in aula, cioè li alleni tantissimo. E quindi investire tanto sui giovani e non sulle categorie ormai, diciamo, dei più grandi. E io credo che anche in questo momento la federazione sia verso questa direzione. Ce ne siamo accorti l'anno scorso che per la prima volta è stato fatto un criterium cuccioli, che è come un campionato italiano, alla quale abbiamo partecipato come Comitato Regionale Siculo Fisi con quattro atleti. Ed è stata la prima volta che una gara nazionale è stata aperta a queste categorie. Ce ne sono tante, ma sono tutte promozionali. E quindi diciamo che la federazione è propositiva in questo senso. E il fatto di non avere un Tomba, sai che Tomba era un talento? Sceva poco, si allenava poco, però riusciva a vincere tutto. È un uomo del popolo, è stato l'uomo che è riuscito a portare sulle piste migliaia di persone che non sognavano mai di andare sulla neve, perché prima era magari un pochino più ristretto come tipologie di persone che frequentavano questo sport. Con Tomba abbiamo avuto un evento enorme, abbiamo avuto incrementi ovunque in tutte le stazioni scisti. Ovunque vai a chiedere, dici, ma effetto Tomba è stato fenomenale. Ora abbiamo effetto Crisi, non abbiamo Tomba e siamo un po' in calo. Però credo che lavorandoci e andando a scovare attraverso qualche atleta, molti atleti sono capaci. Allenarli e portarli avanti non penso sia difficilissimo. A livello siciliano la situazione qual è? Nel senso si può sperare comunque di poter partecipare con i nostri atleti, quelli siciliani alle gare nazionali, con sperare impiazzamenti dignitosi. Io credo che abbiamo, i nostri sono veramente dei talenti, perché sciano poco, si allenano molto meno di quello che fanno al nord. Dico io ci sto tutto l'anno, sto negli acciai sempre, tutta l'estate, e i nostri sciano veramente molto meno. E quindi io li chiamo talenti, ne abbiamo parecchi. fossero nati a Bolzano magari oggi o domani, chissà, in nazionale o comunque quantomeno in risultati molto positivi. Diciamo che noi ce la mettiamo tutta per portare avanti questa squadretta. Veniamo da degli anni nel passato di buio totale, sai che nel 2002 c'è stata l'eruzione, che tanti scilab si sono sciolti, però adesso stiamo ricominciando. E io ho Magma, che ho 30 ragazzini, di questi 30 ragazzini ne ho qualcuno veramente bravo. L'anno scorso abbiamo fatto il Pinocchio, abbiamo partecipato a diverse fasi nazionali di gare per queste categorie. E c'è anche una piccola squadra del Comitato Siculo, che è anche categoria giovani, categoria lievi, ragazzi, che sono talentuosi, ma purtroppo hanno carenza di allenamento, perché tu mi insegni che per andare a fare un allenamento fuori, un genitore deve spendere una bella cifra. Guardiamo qualche foto adesso, che ripercorre anche un po' la storia di Rossella Zappala. Adesso la regia ci farà vedere qualche foto, così la descriviamo insieme. Questi sono i miei anni che ho lavorato in Val Gardena con la scuola Scischi e Snowboard 2000, una bellissima esperienza. Andiamo a vedere un'altra foto che ci proporrà la regia. Ecco qua. Ecco, e questa è mia figlia Elena, aveva solamente tre anni in Val Gardena. Tu a che età hai cominciato a mettere gli scili? Tre anni. Tre anni, quindi. L'età ideale. L'età ideale. Tale madre, tale figlia. Dai tre, quattro anni, diciamo, è l'età ideale. Vediamo un po' qualche altra foto, velocemente. Questa è la foto di Noemi, un atleta di Magma, l'anno scorso a una gara regionale in Calabria. La conosco da quando ero tre anni, l'ho presa che era un mignon, piccolissimo. Piccolissimo. Questa foto? Questa è la foto di un mio campione italiano, Trofeo Cielo Creme, fatto a Nevegalla tanti tanti anni fa, un bellissimo ricordo. C'è il nome? C'è il nome perché avevo questa fobia di firmare le foto. Beh. Ho capito. Bene, qui è una fotografia datata. Questa è datata. Sei tu quella che riceve? No, quella che riceveva la Coppa sono io, è una gara organizzata all'agonistica K. Quanti anni avevi? Eh, avrò avuto 12 anni, 11. Eccoli. E Nicotra che la consegna? E lui? Il papà di Andrea? Forse sì. Chissà. Eh, fondatore dell'agonistica K. Dietro c'è il nostro primo allenatore, la di Bolzano, veniva Roberto Germano, che adesso è Piotella Italia, figurati, ma lo sono ritrovati in aereo l'altro. Andiamo avanti, altre foto. Questa è la foto di un giornale che è stato della Sicilia, credo sia. Sì, del nostro quotidiano. Esatto. E per la prima volta andavamo a fare una gara di discese libera. Al nord. Un campionato italiano di discese libera. Già un evento. Un evento, sì, sì, sì. Qui ti vediamo sorridente con... E qui sono due anni fa o tre, adesso non mi ricordo, il trofeo Topolino, abbiamo vinto il trofeo. E questa è un'altra mia atleta, Claudia, che è arrivata prima sul podio e la società è stata premiata come prima società classificata. E sono grosse soddisfazioni. Tante, tante. Me ne hanno date veramente tante. Loro si impegnano, lavorano, ho un team anche di genitori fantastici. E questo è importante. Che ci credono, che fanno tanti sacrifici e veramente sono... Loro sono i nostri portatori di bambini e senza i genitori appassionati purtroppo non si va avanti. Vediamo se c'è velocemente qualche altra foto qua. Questa è una bella foto di Mago, ma sempre trofeo... Dove siete? Qua siamo a Lingua Glossa. Ah, bene. Sempre un altro trofeo vinto. Quella precedente era... Una premiazione. Una premiazione fatta dal comune di Pedara, ci ha premiato come Sciclub dell'anno. Ecco. Vediamo le ultime due foto velocemente, perché il tempo a nostra disposizione è praticamente scaduto. Questa nostra gradevolissima chiacchierata. Allora, questa è una foto che mi sta molto a cuore, perché questa è una foto che ritrae tutti i maestri uniti in una scuola sci. Ecco, dove siete qui? Qui siamo a Lingua Glossa. Era proprio la scuola sci di Lingua Glossa che ancora esiste. Certo. Al contrario di Sincolo Sietto, ma che purtroppo abbiamo avuto grossi problemi con la sede. Sì. E i maestri insieme, contenti, che lavorano insieme. Questo è fondamentale. Fare sistema. Sì, perché l'unione fa la forza, ricordiamocelo. Qui, un'altra foto? Dove siete qui? Qui siamo alle selezioni maestri sci del 2000. La nostra prima selezione maestri sci dopo la costituzione del collegio. E quello che vedi a fianco a me è un ragazzo, salvo Puleo, che è diventato maestro. Bene. Un'altra soddisfazione. Un'altra soddisfazione. Un'altra soddisfazione con dei nostri ragazzi. Marco Puleo, salvo il padre. Marco Puleo. E questi sono i giovani, giovanissimi, proprio all'inizio di Magoma, che oggi sono tutti grandi. E si rivedranno in queste foto. Rossella, siamo arrivati praticamente alla fine del nostro incontro, del nostro faccia a faccia. Chiudiamo di consueto con una domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti. Tra 100 anni per cosa vorrà essere ricordata, Rossella Zappalà? Vorrò essere ricordata perché ho avuto tanti atleti che sono andati avanti, che hanno fatto la mia professione, che sono riusciti a fare ciò che io forse non riuscirò a fare. Bene. Grazie. Grazie a te. In bocca al lupo. Grazie. Grazie per averci seguito. Linea alla regia. Grazie.